Allora Flavia sei tornata nella tua città, la prima emozione è quello che hai provato? Bellissima, che direi, è un'emozione unica, aver vissuto quello che comunque sta succedendo qui stasera, l'entusiasmo della gente, l'amore dei miei confronti, è bellissimo. Posso chiederti quando durante il torneo, immagino forse nell'ultimo set, hai capito che era fatta, avevi vinto? Quando, sull'ultimo punto, prima assolutamente no, ci ho voluto un po' per realizzarlo, devo essere sincera, ancora non lo sto realizzando. C'è stato un momento in cui ti sei sentita in difficoltà con Roberta? Sì, tanti, tanti momenti, anche nell'incontro con Roberta ho sentito un momento nel quale comunque facevo fatica, ma sono stata brava perché mi sono sopportata. Grazie, grazie.